Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, buon sabato e buona vigilia di Atalanta Juventus. Oggi una conferenza stampa molto asciutta, molto tranquilla, è durata veramente poco, ci sono state anche poche domande, quindi faremo abbastanza in fretta a parlare di quello che è stato il pensiero di Massimiliano Allegri ai microfoni di Juventus TV e di tutte le testate giornalistiche presenti e partiamo subito quindi con le parole dell'allenatore della Juventus che è sembrato molto concentrato a ribadire determinati concetti che avevamo già sentito nelle settimane scorse ma che adesso iniziano a diventare dei veri e propri capisaldi perché manca veramente pochissimo al termine del campionato, manca pochissimo al termine della stagione, Allegri ha voluto ribadire quelli che sono gli obiettivi della Juve raggiungibili in questo momento e ha fatto capire che comunque qualche conto lo sta già facendo. Allegri dice che servono gli obiettivi coscienti dell'importanza della partita, dato che ne mancano solo 5 ovviamente comprensiva di questa, quindi questo scontroietto con l'Atalanta, uno scontroietto col Milan e altre 3, quindi molto molto tosta. Tra oggi e domani ci sono scontri diretti, domani sera sicuramente ne sapremo di più sulla quota Champions ed effettivamente è così perché ragazzi oggi è una bellissima giornata di calcio, di Serie A. Oggi e domani in realtà, si parte oggi con Milan-Lazio che è uno scontro diretto appunto per la Champions, domani, anzi sempre stasera ci sarà Roma-Inter, altro scontro diretto per quelle posizioni lì, Atalanta-Juve domani a pranzo, poi c'è Napoli-Fiorentina che è una partita che non conto ovviamente per la Champions, per la Fiorentina né per Napoli dato che il Napoli è campione d'Italia, però sicuramente è una bella partita, si affrontano le prime 8 in classifica in 4 partite, quindi sicuramente molto molto interessante, ma anche la lotta a salvezza può essere, non dico decisa, ma subire dei ribaltoni domani, perché Lecce-Verona, Cremonese-Spezia, un pelo più in alto Impoli-Saleritana, che non sono ancora interessati direttamente alla lotta a salvezza, ma potrebbero anche tirarsi fuori magari muovendo la classifica con un punto. Il Bologna che sta facendo molto bene affronta il Sassuolo che comunque è una squadra tosta, quindi per quanto riguarda il campionato di Serie A, che io continuo a dire non è il campionato meraviglioso, però questa giornata nello specifico, così poche giornate dal termine, in cui ci sono così tanti scontri diretti per gli obiettivi ancora in corsa, questa è una giornata da vivere, questa è una giornata proprio bella, da godersi in santa pace, quindi già oggi alle 15 io inizio a mettermi sul divano con Mila Allassio, vediamo un attimo che cosa salta fuori, poi parlano dei giovani di questo mondiale under 20 che si andrà a disputare in Argentina, ne avevamo parlato proprio due giorni fa, e Allegri dice questo resta un privilegio per il club, i problemi sono già risolti, sulle parti da dopo la partita di Cremona ha dimostrato interesse e ha voluto andare, abbiamo già trovato l'accordo, Iling invece rimane qui con noi e su Miretti al momento non c'è alcuna richiesta, io tra l'altro non avevo capito che anche Miretti poteva essere coinvolto, non mi sono informato, devo dire la verità, su questo mondiale under 20, fatto sta che partirà soltanto sulle, Iling invece rimarrà e a quanto pare pure Miretti, che ripeto non sapevo potesse essere preso in considerazione, non ho ancora deciso niente sull'attacco, era entrato Ken dopo un mese di inattività, stava molto bene e ora sta riprendendo condizione, Mirich e Vlaovic stanno bene e comunque mancano 30 giorni, quindi chi va in campo e chi entra sono tutti determinanti, anche chi parte dopo, e Allegri qua va un attimo a tastare la condizione dei propri attaccanti, va a mordere anche un pochino l'orgoglio di chi magari partirà dalla panchina e sarà destinato a risolvere la partita, magari subentrando, e sappiamo bene che ci sono delle grosse possibilità anche dalla panchina di risolvere la partita, vi faccio un esempio, raspadori contro di noi, quello 1-0 del Napoli sulla Juventus, proprio nato da un cambio offensivo che parte dalla panchina, quello è stata una caratteristica del Napoli, noi dicevamo anche nel pre-partita, e cioè che comunque il Napoli è una squadra che aveva segnato tanto dalla panchina, noi non siamo ancora così forti, però sicuramente abbiamo la qualità anche nei ricambi per cercare di fare bene da questo punto di vista. Allegri poi dice, sulla squadra ho sempre avuto fiducia, perché comunque a parte i momenti in cui siamo andati in difficoltà, soprattutto nell'ultimo periodo dove non abbiamo vinto, e poi non termina la frase, probabilmente voleva dire, ho comunque sempre avuto fiducia. La squadra sta bene, siamo lì in lotta, serve un passettino alla volta come abbiamo fatto fino ad ora, poi domani sera guarderemo la classifica e ci tufferemo nell'Europa League. La Juve non li batte da sei partite, l'Atalanta viene da tre vittorie, in casa sono forti perché hanno fisicità, in questo momento è in ascesa dopo un periodo di appannamento. Non ho controllato questi numeri, ma sicuramente faremo una disamina domani nel video pre-partita, che uscirà alla mattina presto perché poi la Juventus gioca a ora di pranzo. Anche loro sono in lotta per entrare in Champions. Con gli scontri diretti di oggi e la nostra partita di domani, sapremo un po' di più sui numeri. Sì, domani sera, anzi domani in pausa pranzo, dopo al termine di Juventus-Atalanta sapremo sicuramente qualcosa di più sulla lotta Champions a quattro partite dal termine. Già stasera qualcosa in più lo sapremo e poi noi domani dovremo essere bravi a non buttare via un'opportunità perché questa è veramente un'opportunità che abbiamo. All'andata fu una partita molto buona, secondo me, giocata dalla Juventus con degli errori individuali, ma che ci possono stare con un atteggiamento giusto. Era la prima partita post-penalizzazione. Il gruppo sembrava galvanizzato. Non si era portato a casa la vittoria, ma c'era stata un'ottima risposta nervosa e di prestazione. Quindi speriamo che domani possa esserci una Juventus-Gagliarda che possa capire che effettivamente questi tre punti servono. Spero che Allegri la possa preparare bene perché davvero già il fatto che noi siamo qua in questo momento a confrontarci con una classifica effettiva di campo, ma sappiamo bene che in realtà questa classifica da un momento all'altro potrebbe venire stravolta e secondo me tra plusvalenze e stipendi in qualche modo sicuramente una penalizzazione ci sarà che possa essere da una parte, che possa essere dall'altra, ma sicuramente la Juventus non concluderà non concluderà la stagione con la classifica di campo. Ne sono abbastanza certo di questo. Quindi dobbiamo fare quanti più punti possibili in queste cinque. Ci sono altri 15 punti a disposizione. Ne abbiamo già lasciati indietro un bel po' e quindi la Juventus deve ragionare anche da questo punto di vista. È ovvio che poi non può farci più niente quando vanno a mettere giù i punti nei tribunali, eventualmente, però sul campo abbia la possibilità di farlo e dobbiamo, dobbiamo veramente farlo. Allegri dice, io l'ho detto la settimana scorsa, ci sono 30 giorni importanti per arrivare a fine stagione. A fine stagione la società deciderà e farà scelti a 360 gradi. Ma fino a quel momento non ha senso parlare né di giocatori né di direttore sportivo. La scelta del DS non è una roba mia. La dovrà fare la società. Quando poi avranno scelto, me lo comunicheranno. Ora, io qua voglio aprire una piccola parentesi perché da diverse settimane sto leggendo che sarà Allegri invece a scegliersi il direttore sportivo. Ecco, questa cosa è illogica. È puramente illogica. Perché? Perché il direttore sportivo viene scelto dalla società il direttore sportivo insieme alla società decide l'allenatore. Quindi è assurdo pensare che un allenatore possa spingere per un direttore sportivo che tra virgolette se dobbiamo metterlo su una scala gerarchica è una sorta di superiore. Perché vorrebbe dire farsi tra virgolette la grazia graziarsi e cioè mettergli uno che fa in modo di non spostarmi. Perché è il direttore sportivo che insieme alla società decide il progetto e quindi decide appunto la base del progetto sportivo che è l'allenatore. Quindi trovo illogico che sia che possa essere Allegri a scegliere il direttore sportivo. In queste settimane stiamo leggendo che comunque Allegri vorrebbe Rossi o vorrebbe Massara. Però secondo me queste sono soltanto ricostruzioni legate a persone che fanno quel ruolo il direttore sportivo che hai ricercato dalla Juventus e che sono legate ad Allegri. Anche oggi si è parlato di Giuntoli anche oggi Romeo Agresti ha riportato la notizia che a breve ci sarà questo colloquio tra De Laurenti e Giuntoli. Ieri ne abbiamo parlato sul canale proprio di Giuntoli e dello staff legato agli osservatori che potrebbero traslocare da Napoli a Torino. Quindi vediamo aspettiamo io credo che Allegri abbia fatto benissimo a dire questa cosa perché ripeto da qualche settimana si continuava a leggere che in realtà è Allegri che andrà a decidere ma ha fatto benissimo a dire ragazzi non sono io decido la società e poi a fine anno insieme al direttore sportivo tireranno le somme. E' inutile che sotto ogni video continuo a ritrovarmi il commento ma Luca ma sei ancora convinto che Allegri poi a fine anno rimarrà andrà via si rimetterà ragazzi il discorso è sempre quello io sono convinto che Allegri l'anno prossimo non allenerà la Juventus e secondo me anche oggi ci ha buttato un pochettino in pasto qualcosa dicendoci poi è la società che fa scelte a 360 gradi come 360 gradi era stato utilizzato qualche settimana prima quando parlava di blocco granitico a 360 gradi che nel linguaggio comune nel modo di parlare di tutti i giorni 360 gradi fa semplicemente riferimento a tutto quello che c'è intorno è un angolo completo è un cerchio però il fatto che Allegri dica blocco granitico a 360 gradi e dirigenza che società che farà le valutazioni a 360 gradi io li vedo come una sorta di nesso di collegamento della serie poi a fine anno decideranno anche su di me e nel momento in cui decideranno il direttore sportivo che non scelgo io per la serie non è che posso metterci un mio amico in modo da farmi parare il culo potrebbe essere che anche la mia posizione alla fine verrà messa in discussione e secondo me così avverrà non è così avverrà io mi rifiuto di pensare che la Juventus possa semplicemente accettare il fatto che si giochi per le prime quattro posizioni e basta perché non fa parte della storia della Juventus non fa parte nemmeno degli investimenti che comunque sta facendo la Juventus in questi anni e né del piano sportivo che la Juventus ha presentato agli azionisti e non è roba da poco la Juventus ha sempre sottolineato ha sempre messo in primo piano il livello di competitività sportiva che non può essere semplicemente i primi quattro posti in Serie A per riscrizione nella Champions League perché la Juventus ha altre spese questa risposta di Allegri che secondo me è molto onesta molto schietta arriva da una domanda interessante che gli era stata fatta e cioè quando il Napoli arrivava dietro e vinceva la Juventus e si chiedeva agli allenatori come Sarri e Benitez qual era la differenza loro rispondevano il fatturato ma oggi la Juventus ha il fatturato più alto e ha vinto il Napoli questa è una domanda molto interessante secondo me e che ci porta a due spunti di riflessione la prima che in tanti anni degli allenatori che comunque non ce l'hanno fatta vincere invece che riconoscere magari la superiorità degli altri o l'inferiorità della propria squadra si è attaccata al fatturato che sicuramente era qualcosa di importante perché quel fatturato aveva permesso alla Juventus di creare delle squadre importanti però era sempre solo uno il problema quegli altri e in seconda battuta che anche con un fatturato maggiore se poi si sbaglia gli investimenti o non si ottengono sul campo i risultati vince anche che ha un fatturato minore ed è per questo che il giornalista diceva la Juventus quindi vorrà ripartire la Giuntoli per questa cosa qui secondo me sì perché la Juventus si è resa conto che magari a livello di investimenti per il momento che sta attraversando non solo la Juve ma tutto il calcio italiano la Juve comunque è una squadra che investe è una squadra che ha una buona disposizione economica è una squadra che ha anche delle risorse che possono essere appunto i ragazzi che vengono su dalla Next Gen e tantissime trattative di questo tipo però i soldi li sta spendendo male e sul campo non c'è una vera risposta quindi io sono davvero convinto che la Juventus l'anno prossimo sarà costruita da un DS che potrebbe benissimo essere giuntoli a seguito di un capo scout e quindi andrà a cercare giocatori da valorizzare e se vuoi valorizzare un calciatore allora Allegri non è il tecnico giusto e quindi la Juventus farà altre andrà a fare altri ragionamenti e prenderà altre decisioni ripeto è una risposta molto onesta quella di Allegri molto sincera ma secondo me racconta tanto racconta tanto perché Allegri anche qua non ha ribadito la società farà le valutazioni sceglierà il DS poi io l'anno prossimo sarò qui perché la società mi confermerà il DS mi confermerà Allegri ha sempre detto io sarò qui a meno che non mi caccino poi io sono dell'idea che Allegri possa anche dimettersi ma l'idea che la Juventus confermi Allegri a fine stagione a me non è così certa poi la ricostruzione giornalistica perché le fonti che arrivano dalla Juventus dicono no Allegri rimane beh quello è un altro discorso sono convinto che la Juventus in questo momento i giornalisti vada a dire sì sì Allegri rimane non è io sono convinto anche perché banalmente non c'è ancora il direttore sportivo che è quello che sceglie l'allenatore insieme alla società e quindi non ci può essere neanche un colloquio con gli allenatori per quello tante volte mi dicono ma chi sarà secondo te l'allenatore della Juventus ragazzi io posso dirvi soltanto quella che sarà la mia sensazione e ve l'ho detto da mesi per me sarà Tudor per me sarà Igor Tudor ma la Juventus non si è ancora mossa con gli allenatori perché non si è ancora mossa con il direttore sportivo col quale dovrà analizzare la stagione e valutare la programmazione e da quel momento lì poi allora potremo iniziare a fare davvero dei nomi adesso possiamo andare soltanto per sensazione per gioco non c'è altro non c'è altro modo perché come dicevo prima la Juventus fa filtrare una e una cosa sola Allegri è confermato ma perché? perché effettivamente oggi è così ma non c'è ancora un direttore sportivo e non c'è ancora la creazione di un progetto perché la Juventus in questo momento ha necessità di avere un progetto la Juventus deve programmare se la Juventus oggi non programma muore perché non è in grado la Juventus di andare avanti ancora in questo modo con il tifoso che magari poi non riempie neppure più lo stadio con la squadra che non accumula nemmeno più i trofei e con magari la qualificazione Champions che viene tolta per via di fattori extra campo e se non vinci non guadagni se il tifoso non viene allo stadio non guadagni se non ti scrive le coppe europee non guadagni quindi hai necessità in questo momento di un progetto che possa inglobare queste tre cose e possa valorezzare il talento da alcuni ragazzi e Allegri questa cosa non te la sa fare Allegri ti sa fare altre cose e l'abbiamo visto nel percorso precedente dei cinque anni precedenti abbiamo ancora necessità di quel tipo di allenatore che vada a prendere quegli obiettivi per me no perché la Juventus non lotta più per quegli obiettivi ma la Juventus ha altri tre problemi oggi e sono questi tre e quindi serve un profilo differente in manchina a me sembra ragionamenti talmente banali e scontati che io capisco la preoccupazione del tifoso però capisco anche le tempistiche e cioè mancano cinque partite a fine campionato ne mancano due di Europa League speriamo tre quindi dalle sette alle otto partite a fine anno e oggi la Juventus non ti può parlare del futuro non ti può parlare dell'allenatore non ti può parlare del progetto non ti può parlare del dirigente sportivo perché ancora oggi non c'è niente e se è vero come è vero che Giuntoli e De Laurenti si devono ancora parlare e magari Giuntoli nella lista di Juventus è il numero uno ad oggi non c'è ancora niente ma non significa che la Juventus confermerà Allegri che andrà avanti così logica che possa essere diversa da quella degli altri ma per me è così poi questa cosa non cambierà da qui a fine stagione ecco è inutile continuare a dirmi ma sei ancora convinto di sì sono convinto di questo e fino alla fine della stagione sarò convinto di questo se poi si inizierà davvero programmare la stagione con Massimiliano Allegri ancora in panchina allora vi dirò bene non la considero una scelta logica e allora poi ne parleremo ma da qui alla fine della stagione la mia posizione non cambia cioè questa è la mia lettura e questa rimarrà quando una squadra vince significa che ha dimostrato di essere più forte poi non tutte le stagioni sono uguali a volte le cose vanno contro altre invece a favore il Napoli ha strameritato lo scudetto nei numeri e in tutto quello che hanno fatto poi tutte le stagioni sono diverse l'anno prossimo sarà sicuramente un'altra stagione li ho già fatti lo ripeto c'è da fare i complimenti al Napoli qua secondo me Allegri usa il bastone e la carota tra virgolette una carezza e una sberla nei confronti del Napoli perché dice sì bravissimi avete vinto però secondo me va a buttare un concetto che ultimamente non si ripete più ma che un tempo si ripeteva spesso e un tempo intendo una decina di anni fa e cioè quello del confermarsi perché l'Inter vince lo scudetto ma non si riconferma il Milan vince lo scudetto ma non si riconferma il Napoli vince lo scudetto sarà in grado di riconfermarsi Allegri dice questo sì benissimo avete vinto bravi ve lo siete meritato giustissimo complimenti però tutte le stagioni sono diverse e se davvero volete aprire un ciclo ora bisogna confermarsi e quante volte all'epoca sentivamo vincere è difficile ma confermarsi è più difficile e la Serie A degli ultimi anni ci sta dicendo proprio questo ora vedremo se il Napoli sarà in grado di confermarsi nuovamente e ovviamente guardando questo Napoli ti viene a dire sì certo poi magari cedono qualcuno magari qualcuno viene sostituito con qualcun altro magari viene fuori un'altra squadra l'anno prossimo non lo possiamo sapere quanti potevano immaginare l'anno scorso mentre Inter e Milan l'ultima giornata si giocava allo squadetto che il Napoli avrebbe vinto quest'anno nessuno ma il calcio è bello anche per questo è imprevedibile Pogba ha fatto 20 minuti buoni finali l'ultima partita è diverso è un giocatore diverso per tecnica e fisicità questa stagione per lui è maledetta con tutte le operazioni e mezzi fortuni che ha avuto siamo arrivati a 30 giorni dalla fine in queste condizioni va sfruttato nel migliore dei modi possibili per aiutare la squadra anche se per 30 minuti ora dobbiamo entrare nelle prime 4 e arrivare in finale d'Europa League momentaneamente siamo terzi e mancano 5 partite l'anno prossimo sarà tutta un'altra stagione ora tutti concentrati l'ho detto anche la settimana scorsa gli obiettivi personali non contano niente soltanto quelli di squadra i ragazzi devono essere a disposizione che sia un minuto che sia 90 sono tutti uguali a fine anno se si raggiungono i risultati di squadra non è che ce n'è stato uno più bravo dell'altro allora ovviamente questa è una bugia bianca nel senso che se raggiungi dei risultati di squadra poi i risultati di squadra passano anche dai valori individuali però io apprezzo questa cosa ed è tutto quello che ho sempre criticato ad Allegri nella prima parte della stagione quando a inizio anno ci parlava di eh ma mi manca questo mi manca quello mi manca quell'altro allora come facciamo a giocare passavi un bruttissimo messaggio bruttissimo messaggio a quelli che invece dovevano scendere in campo e cercare di portare avanti la carretta e allora che sono io il figlio della schifosa si dice dalle mie parti avranno pensato tanti giocatori della Juve oggi Allegri dice che sia un minuto che sia 90 i calciatori devono mettersi tutti sulla stessa linea sono tutti uguali e per raggiungere gli obiettivi di squadra bisogna mettere da parte quelli personali perfetto perfetto poi ripeto è una bugia bianca perché ovvio che Pogba, Di Maria Chiesa, Blaovic siano più forti magari di altri giocatori all'interno della Rosa e della Juventus ma è giustissimo soprattutto in questo momento in cui mancano poche partite in cui il gruppo deve rimanere compatto in un momento in cui è molto in difficoltà dire queste cose quindi sono completamente d'accordo con questa bugia bianca fin di bene non so in cose diverse la Juve noi stiamo cercando di fare punti che ci servono per arrivare nelle prime 4 ci sono scontri diretti che condizionano il numero finale per arrivare in Champions a 73 a 73 è matematica vedremo se è 72 si sono ottime possibilità ma dipende dai risultati di oggi ora non sto a parlare di numeri perché se no vi annoio ma è così ora io non so non mi sono nemmeno messo a fare la tabella Champions perché sinceramente non ne ho voglia banalmente non ne ho voglia se Allegri pensa che 73 sia il numero matematico benissimo vedremo se è 72 a me interessa andare in campo in questo momento però vi dico una cosa che rientra nel discorso di prima da un po' di tempo stiamo leggendo questa cosa qui cioè che Allegri sarebbe confermato sulla panchina di Juventus per altri due anni da contratto non abbiamo conferma questa cosa da questo punto di vista se riuscirà ad arrivare in Champions mentre se non riuscirà ad arrivare in Champions sul campo non con punte di penalizzazione altra se non riuscirà ad arrivare in Champions la Juventus avrà la possibilità di toglierlo dall'incarico senza pagarli i due anni successivi Allegri sta continuando a battere su questo chiodo in questo momento nei primi quattro in finali d'Europa League perché sono le due strade in cui si può arrivare in Champions e quando Allegri parla di società che poi a fine anno valuterà e quando l'altro giorno parlava di Champions per i novi di Rabiot e di Maria ma diceva non solo infatti mi invito ad andare a vedere il video dell'ultima conferenza stampa e quando ancora in quella prima proteggeva il suo lavoro nello scontro con Fabiana della Valle in cui diceva si valuta poi a fine anno in base ai risultati io non ho mai dato peso a questa cosa devo essere sincero non ho mai pensato che nel contratto Allegri potesse esserci una clausola che in caso di non qualificazione in Champions si potesse separare io inizio a crederci però adesso inizio a crederci e secondo me anche questo discorso del poi la società a fine anno non mi valuta sembra quasi un voler mettere in chiaro che se arrivo in Champions l'obiettivo minimo che c'è il mio contratto l'ho raggiunto non mi si chiede di vincere la Champions non mi si chiede di vincere il campionato non mi si chiede di vincere la Coppa Italia mi si chiede di arrivare in Champions a giocarla e questo secondo me apre una sorta di discussione che può tornare un pochino indietro nel tempo all'eliminazione l'anno scorso col Villareal dove Allegri sbotta in conferenza stampa con un giornalista che gli diceva fallimento e Allegri dice se non sapete le cose non dovete parlare non si può parlare di fallimento come quando siamo stati eliminati i giorni quest'anno non ha parlato di fallimento ma di opportunità di andare a giocare in Europa League se mettiamo insieme tutti questi pezzi e secondo me le reazioni di Allegri nelle varie circostanze nelle conferenze stampa nei momenti in cui si è parlato di obiettivi da raggiungere di fallimenti ragazzi sta a vedere sta a vedere che davvero nel contratto di Allegri di 4 anni ci sono delle clausole che possano scattare anno dopo anno o in maniera biennale in cui ci si può separare in caso di non qualificazione sul campo alla Champions League stai a vedere che stai a vedere che che la Juventus non gli importi niente di uscire ai gironi agli ottavi ai quarti da semifinale alla finale poi ovviamente è meglio andare avanti ma che da puro contratto nero su bianco ci sia soltanto una preoccupazione da parte della Juve nei confronti di Allegri arrivare in Champions League stai a vedere e stai a vedere che la Juventus con magari un nuovo management e magari un nuovo direttore sportivo o semplicemente dopo tre anni brutti dal punto di vista sportivo si sia semplicemente stancata nonostante nonostante quello che aveva scritto prima nero su bianco magari con un'altra volontà e quando vi dico è andato via Agnelli occhio ad Allegri che non c'è più Agnelli e si vive di rapporti interpersonali della società che si siano comunque stancati nonostante ci sia scritto semplicemente bisogna arrivare in Champions e questo potrebbe essere lo scherzio di cui vi parlavo l'altro giorno che secondo me ha fatto scoppiare un pochino Allegri quando parlava di blocco granidico a 360 gradi vuoi vedere che gli hanno detto Max sì però così non è sufficiente perché almeno la Coppa Italia lui abbia detto da contratto trofeo non ce n'è scritto c'è scritto levare in Champions e fa valere quello che c'è scritto lì per difendere il suo lavoro e quando dice voi non sapete le cose è perché non sappiamo cosa c'è scritto sul suo contratto e che quindi si sia incazzato perché la dirigenza non aveva diritto legale dal punto di vista legale di dire sì però vogliamo di più perché sul contratto quello c'era scritto e Allegri tante volte ci ha parlato di conoscevo le difficoltà nel tornare la Juventus sapevo che sarebbe stato più complicato avete presente le lucciole del Mago di non mi ricordo che cosa uno mattina del Mago dice quante lucciole io le vedo tutte qua e si stanno unendo tutte insieme e secondo me si va in quella direzione lì una Juventus che avrebbe sollecitato Allegri perché così non va bene un Allegri che va a leggersi il contratto e dice sì ragazzi ma carta canta è una Juventus che avrebbe detto sì però questo non è sufficiente è un Allegri che oggi ci sta dicendo a fine anno valutano a 360 gradi a me è un metti insieme tutte le cose e non ci andiamo tanto distanti ma sono soltanto i discorsi di un matto sono soltanto illazioni e basta nulla di più la squadra punta sempre all'orgoglio e punta sempre all'orgoglio la Juve storicamente lotta per tutte le competizioni questo è il terzo anno dove non siamo competitivi per il campionato vediamo il prossimo non è facile vincere vincere è sempre straordinario poi è normale che quando vedi gli altri vincere hai più voglia ma fa parte del gioco noi dobbiamo provare a giocare la Champions l'anno prossimo e abbiamo due strade o il quarto posto o la vittoria dell'Europa League e come vi dicevo Allegri che continuano a battere su questi due chiodi noi dobbiamo giocare la Champions sì ma dobbiamo giocare la Champions perché vogliamo arrivare in Champions o perché c'è qualcosa di di più è normale che quando gli altri vincono poi hai più voglia di vincere perché perché è arrivato qualcuno che dall'alto della sua posizione Juventus ha detto che o perché semplicemente il tifoso che vede i napoletani festeggiare ora dice cavolo quando tocca a noi non avremo risposta a questa domanda sicuramente non oggi magari in futuro sì forse basta attendere soltanto un mese e poi avremo un quadro un po' più chiaro della situazione a domani ragazzi